buonasera eccoci di nuovo pronti per tuffarci in una nuova onda d'arte e per immergerci nella più dirompente ironica estrema e dissacratoria delle avanguardie assurda e senza senso già a partire dal nome al quale ogni membro del movimento ha dato una spiegazione diversa ma che di fatto non significa assolutamente nulla dada è il 1916 e in pieno clima bellico un gruppo di artisti per sfuggire agli orrori della guerra si rifugia a zurigo in svizzera paese neutrale e fonda il ritrovo letterario cabaret volterra sede di serate stravaganti ed anticonformiste in questo contesto nasce appunto il dadaismo il movimento che è nato appunto in un clima di profondo sconforto trova rifugio nell'ironia nel paradosso nella provocazione nella dissacrazione quindi contro ogni regola del buon senso del qualunque valore estetico etico e morale lo strumento preferito è lo scandalo e tra gli artisti dadaisti quello più scandaloso e dissacratorio è sicuramente marcel duchamp il quale dissagra la povera gioconda non solo mettendo su una sua immagine baffi e pizzetto e dicendo in modo molto insolente ho cercato di fare dei baffi davvero artistici ma dandogli un titolo formato da una serie di lettere dal significato nascosto non troppo in modo veramente spudorato ma la grande novità scandalosa di duchamp è l'invenzione geniale del ready made con il quale si apre un nuovo modo di fare arte prendendo un oggetto decontestualizzandolo cioè togliendolo dal suo contesto abituale quello per cui è stato proprio creato mettendolo su un piedistallo dandogli un titolo l'oggetto diventa magicamente un'opera d'arte e un primo tentativo di ready made era già stato fatto nel 1913 con ruota di bicicletta nel 1914 con lo scolo a bottiglie ma lo scandalo più grande e duchamp lo regala nel 1917 ad una giuria di un'associazione artistica mettendo in mostra un orinatoio capovolto al quale aveva posto come titolo fontana e firmandolo con lo pseudonimo di richard moot e scatenando ovviamente delle reazioni assolutamente sconvolgenti l'originale del 1917 è andato perduto molto probabilmente perché gli operai poi smontando la mostra lo hanno scambiato per un vero orinatoio e che lo hanno gettato via ma duchamp non si è offeso anzi ha detto che l'opera d'arte nel momento in cui scende dal piedistallo ritorna ad essere un oggetto comune e quindi può essere tranquillamente gettata via con il ready made quindi l'importante è il processo di ideazione creare una nuova idea dell'oggetto dal momento che ora l'arte non crea più la realtà è la realtà che diventa arte quindi possiamo dire che tra le avanguardie storiche il dadaismo o dada come preferivano chiamarlo i membri che lo che ne facevano parte è quello che ha avuto la vita più breve però è anche quello che ha avuto il merito di aprire la strada ad altre esperienze artistiche come per esempio il surrealismo ma un momento dentro l'onirico mondo dell'inconscio ci tufferemo sognando nella prossima onda d'arte grazie e alla prossima